Signor Bargers, che cos'è il sesso per un inglese normale? In Inghilterra, cioè in Gran Bretagna, attualmente dal punto di vista del sesso la situazione è molto interessante. Esiste una tendenza sempre maggiore verso l'omosessualità praticata apertamente, molto maggiore in Gran Bretagna che non negli altri paesi. Ad esempio in Italia non c'è molta apertura nei confronti dell'omosessualità, anche se penso che in Italia il numero degli omosessuali sia notevole. Ma in Inghilterra la natura dell'educazione data ai maschi tende a coltivare l'omosessualità come un aspetto della cultura maschile del paese. Oggi l'omosessualità viene praticata apertamente, è molto diffusa, mentre l'eterosessualità in Inghilterra, come in Cina, ha rappresentato molto un qualcosa di infantile. Il piacere vero nel sesso era dato dalla omosessualità. Gli americani hanno ragione quando dicono che probabilmente c'è più omosessualità in Inghilterra che nel loro paese, ma sbagliano quando affermano che molti inglesi con il loro atteggiamento, con il loro modo di comportarsi e di parlare mostrano di essere omosessuali. Con i loro gesti, con il tono di voce, sono dei damerini. Questo non è vero. Gli americani hanno la tendenza a vantarsi di essere uomini, mangiatori di manzo e patate, e pensano che gli inglesi siano effeminati. Questo non è vero. Gli omosessuali più famosi in Inghilterra sono sempre stati uomini forti, simili a rocce, come Oscar Wilde, un irlandese, un vero britannico, un uomo grande e grosso. Questo è un aspetto dell'educazione britannica. La scuola pubblica inglese educa i ragazzi a diventare degli sportivi, a diventare grandi e grossi e maschili e al tempo stesso a dedicarsi ai piaceri omosessuali.